Vogliamo ricordare anche per questo fine anno alcune semplici regole per quanto riguarda l'impiego dei fuochi pirotecnici. Si dividono in quattro categorie F1, F2, F3 e F4 in base alla potenzialità e gli effetti. Tutti gli artifici devono avere la marcatura CE, non devono essere acquistati da ambulanti non autorizzati perché non si conosce la filiera del prodotto. Acquistare sempre l'artifizio nella sua confezione originale che deve riportare in lingua italiana e le istruzioni per l'uso, dove è indicato anche se può essere impiegato in luoghi aperti o al chiuso, nonché le distanze di sicurezza. Non utilizzare mai gli artifici contro persone, animali o altre abitazioni. Non tentare di riaccendere gli artifici che non funzionano e soprattutto nei giorni dopo il capodanno se si trova per terra qualche artificio illegale, inesploso, non bisogna assolutamente toccarlo ma telefonare al 112. Grazie. Grazie a tutti